La candeggina si usa solo sui capi bianchi e resistenti, mai sui delicati. Eh no! Oggi c'è omino bianco candeggina delicata con formula rispetto totale, per candeggiare anche i delicati e i colorati, in tutta sicurezza. Omino bianco candeggina delicata, delicata sui delicati, sicura sui colorati. Garantisce omino bianco. E da oggi, con tutti i prodotti della linea omino bianco, in regalo un mondo di spugne. Bastano pochi punti. È un regalo di omino bianco. Grazie a tutti.